ha portato queste due squadre al terzo posto una di loro se ne andrà con il sorriso benvenuti vedremo chi staccherà un biglietto in prima classe per il paradiso allora è la terza partita di oggi ma in questo momento è anche la più importante oragon contro outsider buonasera da pancio ti piace che la massaggiatrice ma siamo con il numero 10 mattiacci l'ingegnere se ne va mattiacci che ha giocata dentro l'area di rigore mattiacci la pole è buona il galan alessandroni porta in vantaggio gli oragon mamma mia l'ingegnere sulla linea di fondocampo guardate qua tunnel a bertocchi che dice calma tunnel a nidal mamma mia e assist al bacio per alessandroni che lì non ha mai sbagliato per farsi bannare anche lui tra l'altro maui uno dei migliori quattro giocatori votati dalla attenzione grande giocata di mattiacci 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 che giocatore per amostani che se ne va molto bene slalom forse subisce fallo sì calcio di rigore rivediamo grande giocata di amostani e no è dentro sulla riga la riga fa parte dell'area di rigore quindi è nettamente dentro la stessa divisa sì e io l'ho detto ho detto mister che outfit giochiamo il bar giocano il bar intervento falloso sulla linea linea fa parte dell'area di rigore perfetto arriva il fischio parte il numero 11 il capitano degli outsider maui contro marenco se è un po ingarbugliato maui e cerca lo spazio per il tiro esulta che ingascia ragazzi attenzione carta usata dal demone di tallin doppio cartellino rosso come fiero su bertocchi viene un po qua che ti vedo stanco anche numero 3 dai entrate fuori per un minuto per tre minuti un gol la way allora qua abbiamo nominati canella poi il tiro di gallo da fuori ancora chris la way se la ritrova lì chris di le grande parata ma non è finita il tiro ancora di le ragazzi hanno cambiato i numeri rispetto alle distinte multa per gli oragon canella canella bravo ma bertocchi dal limite conclude poi nidal sempre nidal il cross e arriva il pareggio dell'albanese volante armeno tota si no e lo aveva sbagliato prima però si si ragazzi attenzione carta per parte degli outsider turnover forzato escono 10 9 e il 5 no 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 sai ragazzi una squadra che non c'è veramente devo ringraziare maui e bertocchi stanno facendo un miracolo sportivo altro pallone in mezzo sta diventando la palla dani battle royale però parte mattiacci con il sinistro bellissima comunque il gesto rimane da parte del numero 10 2 minuti e 30 al termine ci dice il timer mattiacci morbido pallone e mezzo alessandroni attenzione ancora il bomber s'appoggia per il sinistro la palla che c'è di pochissimo bello bello pallone morbido dentro l'area di rigore c'è maui che fa questa volta un bel gioco risponde al shot out fallo subito da maui vediamo di mano allora qua ma cosa la palla non è uscita quindi non può essere fuori sarà proprio maui contro marenco di nuovo il numero 11 maui maui bravo bravo maui la rock star maui che ladrata marenco freddato così dal mancino numero 11 degli outsider e allora canella ritorna l'ex inter in mezzo al campo mattiacci mamma mia ragazzi ma che giocatore perde palla però allora nidal subisce fallo ma subito mattiacci il fallo nidal credo mattiacci no no nidal ha voluto mattiacci ragazzi che ha avuto forse un gesto di stizza di reazione bello la parte di mattiacci il cartellino blu e quindi cartellino blu lascia la sua squadra in meno rivediamo non è fallo questo che minchia gli ha preso la gamba gli ha preso non parlare di cibo ma che mi torna in mente i pasticciotti mamma mia nidal nidal gran pallone grande occasione lanci in avanti sempre a giocare alessandroni ci mette una pezza però omar nejmi sta facendo una buona partita poi bertocchi alessandroni contro bertocchi questa partita si bertocchi c'è spazio per lui filadelfia il tiro poi bertocchi da fuori marenco si propone filadelfia vediamo come la batterà bertocchi sul secondo palo per armelo doda di testa eccolo qua il bruttissimo marenco per farmi capire uno bello per te canella scherzo ma come uno scherzo o mio dio ragazzi qua bojan gli outsider decidono di giocare la carta doppio cartellino rosso 10 e 5 fuori bella 20 abbonamenti ragazzi ci abbiamo il sub goal che lo becchiamo nidal per dota ancora nidal grande giocata a spaglia forse tocco per bertocchi ne approfitta maui con il sinistro di no si scusate costantini 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 ma devono provarci andre quanto manca ancora di tempo per i due in meno maui che giocata bravissimo maui ancora lui super maui ragazzi il nostro maui c'è bellissimo in questo momento gli outsider hanno due piedi in finale lavoro di suola e poi puntazza alla ronaldo nel 2002 contro la turchia vediamo un attimo dovremmo ripartire ragazzi con i uno shot out a squadra abbiamo stoppato la partita quindi non vi siete persi niente ragazzi stanno vincendo brisida e la massaggio quindi io le sto già richiamando ufficialmente al centro del campo quindi attenzione jinzi parte brisida contro di le vediamo è pronto il tik tok brisida velocissima brisida brisida parato parato valeria o valentino valentino chiamiamo vale 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 si allunga il pallone contro marenco vale vale bravissimo tre contro tre per tocchi prova ad andare se ne va eccolo qua è il cerrimo nemico ma dicono devono andare in avanti togli amos come ti dicevo prima ha messo maui esatto la parte se sbagliano lascia un ultimo attacco agli oragon ok che possono aver tocchi per maui prova a cercare la tripletta non affonda però il numero 11 quello che vai a proteggere il passaggio nessuno lo fa bertocchi fa quello che vuole serve a maui ragazzo non commettono farlo devono quasi ragazzi devono gli ora devono quasi difendere la porta dove attaccano per non farli tornare indietro aia è qua è la porta bertocchi è vuota e fa 4 a 1 credo la peggior gestione di una ruota da quando esiste la gott league da parte di andy line 4 a 1 un euro ha trovato questo giocatorino qua il normal bertocchi insieme a maui diciamo una squadra che puoi vi dico una roba 2 1 ed è finita 4 a 1 outsider oregon grazie ragazzi ragazzi bravi ragazzi e attenzione perché gli outsider allora volano alle finals una squadra di partito dove praticamente non conosciamo nessuno prima di questa gott league e invece adesso i volpi di armelo doda iscriviti al canale perché il 79 per cento di voi non è iscritto si abbiamo notato secondo le statistiche che proprio capita questa cosa ma poi che non mettono mi piace mettete mi piace attirate la campanellina un saluto a pantelliano e ci vediamo alla prossima partita